Buongiorno, sono Eda Malli, vivo a Vienna, vado in giro per fare dei seminari sull'IACC, cioè come usare il colore su base scientifica dell'architettura, questo è il nostro tema più importante, anche offriamo una specie di formazione su varie parti del mondo, è stata fondata questa idea di fare seminari nel 1958 a Salisburgo e da lì noi siamo molto orgogliosi di questo abbiamo celebrato nel settembre scorso il sessantesimo compleanno, o anniversario si dice. Sono venuti ospiti dall'America dove è stata fondata la nostra seconda scuola a San Diego e poi un altro ospite è venuto dal Giappone, dove lì in Nagoya e Tokyo fanno anche dei seminari, così ci siamo riuniti come scuola più giovane, è stato fondato nel 2011, anche i seminari IACC a Milano. Con lo stesso curriculum fa molto piacere di essere qua, di ritornare due volte all'anno.